Il Signore Gesù Il Signore Gesù è un risorto e ci accompagna nel nostro percorso di vita, è veramente presente, io credo davvero che Lui sia l'unico che sa dove portarci, che è uno a cui sto a cuore, continuo a dirvelo, non come il mercenario che lo fa perché ha qualche interesse, noi contiamo per gli altri solo perché ne hanno un qualche tornaconto, Gesù invece davvero ci vuole un bene libero e gratuito e ci porta ai pascoli di vita eterna. E in questa domenica ho voluto venire qui in mezzo alle vigne di mio fratello ancora una volta perché il Vangelo ci richiama un'immagine molto bella, quella del tralcio con la vite e ci permette di definire qual è il nostro rapporto di vita interiore con il Signore Gesù. Io penso che se siete qui a guardare questo video è perché avete un qualche interesse nei confronti del Vangelo, per la stragrande maggioranza di voi Gesù è qualcuno di vivo, di reale, un contemporaneo, lo avete conosciuto e incontrato, vi siete convertiti alla sua parola e ancora ci convertiamo perché la conversione è qualcosa che dura tutta la vita. Allora il rapporto che si instaura con lui, che è risorto, non come un pensiero, un'ideologia a cui aderiamo, Gesù è presente nei nostri cuori nel senso come un ideale. Noi non crediamo in Gesù come possiamo credere in un altro grande uomo della storia, noi continuiamo a dire, affermiamo che egli è vivo, è presente, io lo posso incontrare, non avendo delle apparizioni per carità, Dio ci preservi, ci scampi delle apparizioni, ma nella preghiera, nella meditazione della parola, nella Eucaristia, nella celebrazione dei sacramenti, nella vita della comunità, io realmente faccio esperienza della presenza del Signore Gesù. Come si configura questo rapporto, com'è questo incontro fra noi e Dio in Gesù? Il Signore utilizza molte immagini, ma quella che oggi il Vangelo ci propone, mi sembra estremamente efficace, è stare uniti a Lui, il rapporto che abbiamo con Lui è come quello che ha il tralcio, che vuol dire quel pezzo verde che esce, dalla vite, che sbuche invece dal terreno. Qui dalle mie parti, come vedete, anche se siamo ad aprile in oltrato, quasi maggio, appena adesso che comincia a rifiorire la vite, perché la neve non è da tanto che è via, il terreno appena adesso comincia a rinvigorire. Ma è bellissima l'immagine, perché come vedete alle mie spalle, la vigna è già potata, lo si fa normalmente nel cuore dell'inverno, quando le giornate sono sopportabili, io ricordo l'ho fatto, mio nonno mi ha insegnato a potare la vite, cioè tagliare tutti i tralci, in modo da tenerne solo qualcuno che possa ripartire il momento in cui la vite si sveglia con la primavera. E' interessante, soprattutto in primavera in oltrata, quando si finisce la potatura, perché a volte proprio tagliando i tralci, si vede una lacrima, cioè si vede come un pianto, come una sofferenza, perché evidentemente quello che entra in circolazione fuoriesce. Ma è fondamentale farlo perché la pianta accumuli in un determinato punto tutta l'energia e possa poi crescere, sviluppare il frutto e poi farlo maturare. Anche verso la fine della maturazione, dalle nostre parti, ad agosto inoltrato, si torna a tagliare i tralci, questa volta a fermare la crescita data dal caldo, di nuovo per concentrare tutto nel frutto, tutta l'energia, tutto lo zucchero, tutta la linfa che fuoriesce dalla vite. Ma che bella immagine! Questa immagine ci dice due cose fondamentali. La prima è che se noi siamo staccati dalla vite non portiamo frutto, non facciamo niente, non fioriamo. Ancora una volta ci diciamo che se siamo lontani da Cristo, se siamo lontani da Lui, se per qualche misteriosa ragione qualcosa ci recide dalla sua presenza, non portiamo frutto, non possiamo crescere, non possiamo svilupparci. Io penso che sia bello in questi giorni di Pasqua ridirci ancora una volta che solo in Dio possiamo portare frutto. Possiamo essere dei grandi sposi, dei grandi professionisti, dei bravi papà, degli ottimi figli, dei grandi catechisi, dei buoni preti, ma tutto questo è sempre relativo alla grande domanda che portiamo nel nostro cuore. Qual è il senso, l'orizzonte in cui ci inseriamo? E Gesù ancora una volta ci dice dimorate in me, mi piace questo. Se veramente abbiamo scoperto che solo in Gesù possiamo colmare il nostro cuore, perché andiamo da un'altra parte? Se davvero abbiamo scoperto che solo nella vita interiore, nella vita spirituale, riusciamo a leggere, interpretare, a far fiorire, a dare senso alla quotidianità. Continuo a dire, lo dico soprattutto per gli italiani, so che questo video è guardato anche all'estero, ma è un momento difficile, difficile economicamente, difficile per il grande senso di scoraggiamento che abbiamo anche verso le istituzioni, verso la nostra Repubblica che dimostra tutti i suoi acciacchi, verso la piccineria del mondo economico e così, questo senso un po' di scoramento che rischia di attanagliarci. Anche la Chiesa non vive un momento molto felice. Ed è esattamente questo il momento in cui ribadire dimoriamo, restiamo, restiamo. Come quando in montagna, dalle mie parti, non come oggi che un po' bigio, c'è un raggio di sole che filtra attraverso le montagne. Allora per scaldarsi, soprattutto in primavera e in autunno, si va a cercare, ci si mette al sole finché c'è, proprio perché lo stare, il dimorare, l'essere illuminati non dipende dal sole, ma da dove noi siamo, in quale posizione ci troviamo. Il secondo concetto che ci deriva dalla meditazione sulla vigna che ci propone Gesù è quello della potatura. Quando si pota una vite in preparazione della primavera e della sua rinascita, non è un momento bello, è un momento doloroso per la vite. Allora mi chiedo come viviamo le potature che la vita ci dà, non il Signore. Come viviamo un momento di sconforto, come viviamo un momento di crisi, come viviamo magari una cosa improvvisa, imprevista. Allora è normale arrabbiarsi, deprimersi, è normale disperarsi, è normale dire Dio ce l'ha con me. Questa è la cosa prima che ci viene in mente. Anche noi cristiani, anche a me, succede quando ci sono delle cose veramente che vanno tutte storte, una di fila all'altra, di dire ma Signore dove sei, cosa stai facendo, cosa ci faccio io qui. Eppure in una logica di fede anche i momenti di fatica possono diventare un'occasione per concentrare la linfa vitale, per far emergere la parte migliore di noi. Allora e concludo davvero in questo cammino di Pasqua, che ormai si avvia a conclusione, in questi 50 giorni in cui cerchiamo di trovare le tracce del risorto nella nostra vita, oggi ci restino in mente queste due cose, dimorare nel Signore e non avere paura delle potature. Ripeto, non è Dio che ci pota, la vita ci pota attraverso le sue cose, ma Dio può fare in modo che quella potatura non ci stronchi la vita, ma ci aiuti a concentrare la nostra energia dalla parte giusta per portare frutto. Un po' come succede nel bellissimo racconto della prima lettura di oggi, avete sentito, in cui Barnaba, scusate, il figlio dell'esortazione, uno delle più grandi figure della comunità primitiva, si rende conto che Paolo, appena convertito, è tagliato fuori dalla comunità. Hanno tutti una fifa nera di Paolo, perché sì, si sarà convertito, però di lui si dicono brutte cose. E Barnaba cosa fa? Si fa carico, prende parte, si sbatte, prende con sé Paolo, lo porta a Gerusalemme, lo fa conoscere, lo utilizza, cercando di valorizzare quelle che poi diventeranno le grandi caratteristiche e peculiarità di Paolo, la sua capacità di predicare, la sua capacità di costruire comunità. Ma all'inizio è Barnaba che permette questo, è l'intervento concreto, fattivo di un uomo di chiesa, di uno della prima comunità che è rispettato per la sua capacità di esortare, è il figlio della consolazione, colui che è capace di incoraggiare invece che di star lì sempre a guardare il negativo anche dentro le comunità cristiane. Ricordate quando Barnaba viene mandato a capire cosa sta succedendo fuori da Gerusalemme e quando vede queste comunità cristiane che nascono spontaneamente invece di dire no, non avete il timbrino, mi dispiace, non siamo stati noi a fondarvi cos'è, si rallegra e li incoraggia. Allora il frutto, la vita matura che Barnaba porta è Paolo. come dire, la sua fedeltà a Cristo, il suo dimorare, lo porta a fare delle scelte concrete, a sbattersi per la chiesa, a dire che i suoi fratelli stanno sbagliando e marginando Paolo per farlo diventare davvero un vino straordinario per la comunità. Se noi siamo qui è anche un po' grazie a Paolo. Se Paolo ha così tanto annunciato Cristo e approfondito la sua teologia è perché un certo Barnaba a un certo punto si è reso conto che aveva bisogno di aiuto, aveva bisogno di essere inserito nella comunità. Allora che davvero questa meditazione sulla vite, lo stare in estate a Cristo, non aver paura delle potature, porti un frutto per ciascuno di noi. Il nostro frutto sia l'attenzione ai fratelli, il nostro frutto sia la passione per il Vangelo. Ciao a tutti e buona settimana. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.